Una pratica base per poter iniziare a fare i viaggi astrali. Benissimo! Per poter fare un viaggio astrale la prima cosa è identificare uno spazio adeguato, uno spazio dove potete essere tranquilli, sereni e non disturbati per un certo periodo di tempo. La cosa importante sarà quindi spegnere il cellulare o qualsiasi altra fonte di disturbo e rumore presente nella stanza e magari mettere anche fuori un bel cartello Don't Disturb giusto per evitare che qualcuno venga a bussare o aprire la porta mentre voi state cercando di rilassarvi e fare questo tipo di esperienza. Una volta che avrete identificato il luogo adatto, l'importante è scegliere una posizione comoda. Normalmente quando si fanno i viaggi astrali si predilige una posizione da sdraiato, quindi magari sul vostro letto, perché questo vi aiuta a scendere in profondità dentro voi stessi e rilassare il vostro corpo. La fase successiva infatti sarà quella del rilassamento, ovvero tentare di rilassare tutto il vostro corpo dai piedi fino alla testa, utilizzando anche il respiro. Il respiro inoltre diventerà un po' il vostro filo di Arianna, no? Quindi sarà importante imparare a respirare con un respiro profondo, diaframmatico, che porti la coscienza sempre più giù, sempre più in uno stato profondo di ipnosi, potremmo dire, no? Cioè quindi in uno stato alterato di coscienza. Ecco che allora, quando avrete svolto il giusto rilassamento e incomincerete a sentirvi in uno stato così rilassato, da sembrare quasi che vi state addormentando, potrete esprimere l'intento di iniziare il vostro viaggio. Prendetevi anche uno spazio, no? Per ripetervi quasi come se fosse un mantra questa cosa. Io adesso inizio il mio viaggio, per esempio. A un certo punto utilizzerete la vostra immaginazione creativa e immaginerete, vedrete, cercherete di percepire il distacco del vostro corpo energetico, quindi il vostro corpo astrale in questo caso, dal corpo fisico. Spesso e volentieri l'esperienza che si fa è quella di sentirsi leggeri e quasi svolazzare nell'aria sopra il corpo fisico, al punto tale di riuscire anche a vedere il vostro corpo sdraiato sul letto o dove avete scelto di posizionarvi. Ovviamente le prime volte questo avverrà attraverso l'immaginazione creativa, ma andando avanti con la pratica diventerete sempre più esperti, quindi questa fase sarà sempre più veloce e sempre più autentica, in un certo senso. Ecco, a quel punto, nel momento in cui vi sentite fuori dal vostro corpo, potrete decidere di intraprendere il vostro viaggio astrale. La cosa importante dal mio punto di vista è porsi un intento, perché, come forse già avevo detto, uno può fare anche un viaggio astrale, così per curiosità, perché vuole fare un'esperienza strana, eccetera, ma la cosa importante è l'intento. L'intento di viaggiare, per esempio, nel tempo, andare a recuperare dei ricordi, piuttosto che cercare di andare nel futuro e vedere che cosa potrà succedere in un determinato aspetto della nostra vita. Cercare di trovare una guarigione per un nostro aspetto emotivo, inconscio o anche fisico a volte, oppure cercare di conoscere un qualcosa, un luogo, anche un luogo reale. Cercare di incontrare, magari, una persona che per noi è importante e dalla quale, magari, in questo momento ci sentiamo lontani. Ecco, possiamo veramente fare l'esperienza sotto vari punti di vista. E a quel punto iniziamo il viaggio, quindi ci sono diverse tecniche da questo punto di vista. Un'idea può essere quella di vedere un tunnel davanti a noi, un tunnel nero, scuro, che poi, attraversando questo tunnel, si apre davanti a noi, a un certo punto, un'esperienza, un nuovo mondo o il luogo che volevamo andare a cercare, il ricordo che volevamo recuperare, e così via. Un altro modo, che questo invece è più legato allo sciamanesimo, è quello di immaginare un buco o un tronco cavo, una grotta, e da lì entrare e scendere nel mondo di sotto, per poi, anche lì, comunque, dopo una fase di oscurità, aprirci verso una nuova realtà. È molto importante il passaggio dall'oscurità alla luce, perché, in una qualche maniera, rappresenta anche la nascita, no? Noi siamo nati all'interno di un grembo, uno spazio scuro, buio, dove tutto è potenziale, e poi questo spazio si apre alla vita e quindi ci porta in una nuova realtà. Ecco, questo è un concetto importante, perché spesso, quando si fanno lavori a livello energetico, c'è questa metafora, questo aspetto, perché, di fatto, noi, in ogni aspetto della nostra vita, viviamo continuamente una morte e una rinascita. Facciamo il nostro viaggio, quando sentiamo che è il momento di rientrare, perché il nostro viaggio è finito, oppure, in una qualche maniera, è anche il nostro corpo che ci richiama, torniamo indietro. E per tornare indietro, cerchiamo di percorrere la stessa strada a ritroso. Quindi, se abbiamo fatto il tunnel, lo andiamo a cercare, lo andiamo a riprendere. Se siamo entrati nelle profondità, nel grembo della Terra, risaliremo attraverso quel passaggio che abbiamo utilizzato, per tornare nel qui e ora, nello spazio della realtà presente, ancora probabilmente sospesi sopra il nostro corpo, e anche qui utilizziamo quello che è un filo energetico, nella tradizione si considera un filo argenteo, che collega, appunto, il nostro corpo fisico ai corpi sottini, quasi come se fosse, ancora una volta, un filo di erianna che ci riporta nel corpo. Questa è una fase molto importante, perché quando si rientra nel corpo, soprattutto quando lo si fa un po' inconsapevolmente, ci può essere un disallineamento, e quindi, una volta poi risvegliati, possiamo sentirci un po' storti, un po' suonati, un po' anche rincoglioniti, se vogliamo dire così. Questo dipende proprio da un disallineamento dei corpi, che non sono ancora abituati a questo spostamento, a spostarsi dal qui e ora verso altre realtà, e poi tornare. Qualora succedesse, ci prendiamo ancora qualche istante di respiro profondo, immaginando di lasciare andare tutta l'energia pesante, tutta la difficoltà, la tensione, tutto quello che possiamo avere provato, e cercare con l'intento un nuovo allineamento dei nostri corpi. La cosa molto importante da comprendere, è che, come già dicevo, il piano astrale è un piano mutevole, è un piano dove possiamo fare tantissime cose, ma possiamo incontrare anche entità, che a volte sono positive, altre volte no. Come possiamo difenderci da questo? Beh, innanzitutto attraverso il nostro intento, attraverso quella sicurezza interna, che andiamo a fare un certo tipo di esperienza, e non un'altra. Già questo ci protegge. Ma, per esempio, nello sciamanesimo si utilizzano le guide. Quindi, nei primi viaggi sciamanici, che potremmo definire simili a viaggi estrali, si va proprio a cercare un alleato, una guida, che possa in una qualche maniera proteggerci e guidarci lungo le future esperienze. Questo è importante. Come può essere importante fare questo tipo di esperienze, non da soli, ma accompagnati da una persona esperta?